Big data e small data. Cosa sono gli uni, cosa sono gli altri e come farli dialogare. Dei big data si sa fondamentalmente già tutto, degli small data molto meno. Proviamo a vedere come il caso Lego ci dice che cosa sono gli small data e come sono utili nell'integrazione con i big data. Nel 2003 i big data avevano sostanzialmente indirizzato Lego verso una strategia di semplificazione. Si diceva che i ragazzini avevano sempre meno tempo, sempre più vincolati alle dinamiche, ai tempi e alla velocità del web. Quindi semplificare la composizione dei mattoncini, rendere molto minore il tempo necessario a costruire i castelli o gli oggetti Lego. Questa strategia stava portando lentamente Lego sull'orlo del fallimento. Come hanno risolto questo problema? Al contrario, cioè rendendo più complesso e rendendo più sfidante la composizione dei mattoncini e delle costruzioni Lego. Si sono accorti che il tempo c'era e la voglia c'era solo ed esclusivamente nella misura in cui questo diventava una sorta di prova per il target del fatto che erano davvero abili a costruire i castelli. Del fatto che la sfida in qualche modo diventava una prova della loro abilità. Come si sono resi conto che la strategia necessitava di un'inversione di marcia? Attraverso appunto uno small data, un dato apparentemente insignificante, emerso tramite un'intervista a un apparentemente appunto insignificante nel mare magnum dei consumatori, ragazzo di 11 anni di una provincia tedesca, che ha mostrato appunto loro un paio di scarpe da skateboard, nel quale la suola completamente lisa diventava la prova probante del fatto che era il ragazzo più bravo in città con lo skateboard e questa abilità gli derivava dalla pratica quotidiana spesa sullo skateboard, che aveva appunto liso la scarpa nel punto della suola. Un oggetto, un oggetto icona, un dato piccolo, ma che era in grado sostanzialmente di dire a Lego che nonostante i big data dicessero che il tempo era la variabile su cui lavorare, in realtà gli small data intervenivano a dire che la complessità e l'orgoglio di costruire qualcosa di sfidante era in effetti la variabile su cui andare a lavorare. Quindi il tema della complessità che Lego stava cercando di risolvere semplificando, in realtà era proprio il vero valore aggiunto per quanto riguarda la costruzione dei mattoncini. Anzi, stressando questo tema in un'ottica di sfida, di complessità, di sfida con se stessi e di provare a se stessi l'abilità, era esattamente la direzione che ha poi permesso a Lego di risanare i bilanci e di continuare ad essere una delle marche, se non la marca più famosa al mondo per quanto riguarda il mercato toys. Grazie.